Durante una conferenza stampa ospitata in provincia a Macerata sono stati presentati risultati delle indagini ambientali condotte dall'ARPAM tra luglio 2014 e febbraio 2015 sulle aree potenzialmente interessate dalla ricaduta degli inquinanti emessi dallo stabilimento della ditta Sacci di Castellarraimondo. Risultati che non hanno mai registrato criticità, secondo l'ARPAM, sopra la soglia di legge sia per quanto riguarda la valutazione della qualità del suolo che il monitoraggio dell'area. Innanzitutto mi piace ricordare che questa indagine affidata all'ARPAM è stata voluta dal Presidente e dall'Unione Montana di San Severino Materica, dai sindaci di Castellarraimondo, di San Severino e di Gagliore e dall'amministrazione provinciale. Il fatto di essersi affidati all'ARPAM perché volevamo dati certi, scientificamente corretti e quindi i risultati che oggi presentiamo in qualche modo rassicurano le amministrazioni e quanti hanno il dovere e l'obbligo di tutelare la salute dei cittadini. I risultati dell'analisi sono buoni, nel senso che noi abbiamo analizzato sostanzialmente due matrici e un indicatore biologico, cioè abbiamo analizzato terreni ai fini della valutazione della qualità appunto dei suoli, l'aria in due stazioni di riferimento e i licheni che sono degli indicatori biologici. Per quanto riguarda i campioni di terreni, noi abbiamo analizzato 29 campioni di terreni dislocati, tenendo in considerazione anche i venti prevalenti, quindi dislocati lungo la vallata fino ad arrivare praticamente nelle vicinanze di San Severino Marche. Le due stazioni di prelievo dell'aria sono state installate, una in una zona molto sensibile che è a Gagliore, in prossimità di una scuola, e l'altra in una zona prospicente del comune di San Severino Marche. I risultati hanno dato valori, per quanto riguarda l'aria, confrontabili con i fondi rurali, per quanto riguarda appunto la centralina posizionata in prossimità della scuola di Gagliole. Mentre a San Severino Marche abbiamo avuto valori che sono confrontabili con quelli di zone urbane a scarsa densità abitativa. I suoli non hanno dato nessun valore dei parametri presi in esame, a ricordo quali sono i parametri presi in esame. Noi abbiamo analizzato tutti i metalli pesanti e importanti, ma anche i idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelli cancerogeni, poi i PCB, poi i clorobifinili e anche le diossine. Quindi abbiamo effettuato i campionamenti del suolo del topsoil in aree boschive o non intensamente coltivate. E mentre abbiamo analizzato poi i licheni, le aree boschive, i licheni sono posizionati presso gli alberi e quindi abbiamo prelevato i campioni di licheni, 11 campioni, all'interno di questa grossa area interessata appunto dallo studio, proprio ai fini di una verifica di eventuali presenza di inquinanti, proprio perché i licheni hanno questa caratteristica di assorbire gli inquinanti nel tempo. I risultati sono soddisfacenti, nel senso che da questa indagine, a mio avviso molto approfondita, non sono emerse situazioni particolarmente pericolose o perlomeno che non hanno dato risultati che in qualche modo intaccano la qualità dei suoli, dell'aria e degli indicatori che appunto avrebbero dovuto in qualche modo evidenziare situazioni particolari.